È l'ingegnere piacentino André Sesenna, impegnato a Panama nel cantiere più grande del mondo per la creazione di nuovi ingressi al canale navigabile, il protagonista della puntata di stasera di Yes Piacenza. La trasmissione di Michele Rancati, dedicata ai piacentini che vivono e lavorano in giro per il mondo, fa tappa in una località inedita, dove il poco più che trentenne Sesenna è finito seguendo la propria carriera, che lo ha già portato anche in Sud America, Emirati Arabi e Iran. Appuntamento stasera alle 20.20 su Tele Libertà con Yes Piacenza. Regia e grafica sono di Marcello Marchesini. Per segnalazioni e suggerimenti è possibile scrivere all'indirizzo email michele.rancati.tv